ciao 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 a tutti da svideo sto registrando si sto registrando no io ogni tanto controllo perché è già capitato che registrassimo un video poi credevo di aver registrato e poi non stavo registrando comunque adesso noi mettiamo pronto e vi spiego cosa succede intanto salutiamo Jacopo ciao allora oggi c'è la sfida delle 16 kg infatti vedete anche qua sopra se Jacopo riesce a fare almeno 16 kg si vince un premio da 800 vbanks non è impossibile è una cosa fattibile è una cosa fattibile però io non voglio neanche guffare Jacopo quindi quindi adesso vediamo come va io vi mi ammazzerò quasi subito così voi vedete proprio le skill di come gioca il nostro Jacopo facciamo e già che è già muoio mi sono mesicciato già muoio ma no ma no dai 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 bocca al lupo buona fortuna se riuscirei ad entrare in partita intanto vediamo se ci fa entrare in partita che è già quello connessione in corso ma non si sa in che corso se è corso duomo se è corso vero allora comunque io vi ricordo che questa skin della squalo me l'ha regalato Jacopo poi di recente mi ha regalato anche la skin di mister beast eppure un balletto che questo qua che vi faccio vedere adesso si chiama stai benissimo il balletto quindi io ti ringrazio ancora di cuore Jacopo per tutti questi regali dove preferisci atterrare dimmi tu che vuoi tu tanto non c'è nessun problema decido io no se no decidi tu scusa la tua sfida no 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 sicuro ok va bene va bene quanti tentativi ho a un tentativo e basta no no a parte gli scherzi dove dove vuoi andare dove preferisci andare lo taglio lo taglio lo taglio va bene va bene io comunque te te l'ho detto vai dove vuoi perché tanto io adesso cerco di ammazzarmi il prima possibile ovviamente ragazzi intendo nel gioco perché insomma nella realtà no proprio io vorrei vivere per sempre quindi allora però mi avvicino mi avvicino a Jacopo così intanto vedete io non è che sono andata a provare a rotaio perché sennò facevo già una brutta fine no allora aspetta io devo vedere come killarmi alla svelta ecco aspetta vedo uno che spara aspetta dov'è vieni ammazzami dai che non ti capiterà più uno che vuole farsi ammazzare subito dai killarmi killarmi esatto ma finitemi almeno ecco guarda guardate adesso quando uno vuole essere finito non dai 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 killarmi killarmi ma chi ma non mi prende ma killarmi ehi tu pergo subito a stracciarmi il sederino a parte no mi dissocio allora comunque ehhh a Jacopo ti ricordo che non farò tagli quindi cerca di parlare bene cerca di parlare bene lol ecco adesso abbiamo la visuale di boxe by Jacopo prima kill gg prima kill attenzione gg e una chi ce l'ha allora le persone sono 79 quindi guardate con la balestra oh 3 killarmi e 3 attenzione vabbè se vogliamo parlare tanto però non c'è il genere se vogliamo parlare parliamo se vogliamo stare zitti stiamo zitti no comunque volevo dire che questa sfida non è che lo posso fare a tutti una cosa del genere questa proposta della sfida delle 16 kill l'ho fatta a Jacopo visto che è stato così gentile nell'ultimo periodo che mi ha fatto tutti questi regali ha detto dai proponiamo questa bella sfida del fatto che si può vincere un premio è una cosa carina e poi non cioè se mettevo più kill da fare era anche più difficile ma io credo ma no 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 non voglio dire cosa credo perché non voglio gufare Jacopo non c'è chi sei cercando di gufare no non sto cercando di io ovviamente ti ho detto buona fortuna e spero davvero che mi sono preso i vbac apposta ho fatto scorta di vbac un po così eh ho ricaricato perché c'avevo 150 vbac e ho detto cavolo cioè no gli propongo la sfida dopo non c'ho i vbac da darci il premio quindi ho ricaricato poco fa sì però voglio la gente eh da ogni volta che andavo a colonna c'era 300 persone adesso non c'è nessuno ah eccolo uno attenzione che a momenti lo schiaccia in maniera sbideina non mi frega di e siamo a sette chi buono 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 oh e dai ma perché non mi sa io ho pensato anche una cosa però lo dico a fine a fine giocata questi segreti segretosi no 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 è una cosa bella una cosa bella ma c'è qualcuno eh toc toc c'è qualcuno ma secondo me non sono qua colonna vedi sì c'è qualcuno sì allora ci sono ancora 51 persone vive perché ragazzi questa sfida c'è da dire una cosa non è solo a bravura ma nel frattempo che passa il tempo bisogna sperare che non anche tante persone non vengano killate da altri se no il rischio è quello che magari uno non riesce a fare tot kill perché vengono decimate tanti altri concorrenti altri giocatori da altre persone ah ma il bot no ma qual è il bot non è il bot ho detto il bot secondo me è ah aspetta la scala ah no ho visto male forse ti conviene andare in un'altra città ti conviene Jacopo forse senti i passi vieni senti i passi non sono quelli del bot sto perdendo solo tempo eh quello lì è quello lì che per quello che ti suggerivo magari ti prendi la macchina e vai in un altro posto me ne vado me ne vado dunque oh rotaia c'era in dato prima no? sì dove potrebbero essere? nitrodromo? ma non lo so non lo so decidi tu decidi tu che non voglio eccolo ah ecco ecco bravo bravo ma dove scappalo? ma è più quindi quello che dicevo prima dopo non chiedetemi anch'io 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 io voglio fare una sfida delle 16 kill perché ovviamente come potete capire non è una cosa che si può fare tutti i giorni eh perché il video bisogna un esordino eh 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 insomma me ne vado al nitro? io sì sì prova prova a vedere se c'è gente lì eh se no ti sposti ancora ti sposti ancora mancano altre 8 kill spediamo eh e i giocatori sono 33 anzi forse 32 perché se contano 3 32 32 perché io sono 33 33 trentini entrarono a 30 tutti e 33 trotterellando no no era ah era così sì vai togliamo il ping sennò mi dà un fastidio dai mi dà un po' che qua non c'è nessuno c'è sempre una catastrofe di gente eh non capisco quello che dice a volte ragazzi vabbè mi metterò traduttore jacopese ho detto una catastrofe di gente ah ah ok no 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 lasse il medaglione chi ci vuole mandare quella volta che verrò da te mi farei un dizionario non te la do io costa veramente 10 euro ecco 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 è una cosa eh è una cosa comunque io saluto tutti i ragazzi che vengono sempre a giocare nelle mie live di Fortnite soprattutto quelli più bravi che si comportano bene non faccio nomi però e grazie anche a tutti quelli che passano dalla chat che anche se non giocano vedo che puntualmente vengono lì in live e scrivono cose carine ecco allora una domanda tutta altra di avente c'è la safe che da nitrodomo va a pozzo purpureo purpureo eh mo nitrodomo guarda nitrodomo ci sono i miei taglioni perché mi sono andato guarda un po' perché ah grandi ragazzi grandi sì però non è che ci stanno sono i miei taglioni ci stanno altre venti trenta persone eh quello è quello ma dove sono tutti questi dove sono eccole là ehi buongiorno tu e due di loro quello vuole diventare morto e anche se compagno oh non è morto ah ecco diciamo anche questa caratteristica noi stiamo facendo un server coppie quindi è svantaggiato anche dal fatto che Jacopo si trova ad affrontare delle coppie perché io come avete avete visto dall'inizio mi sono chillato subito per farvi vedere appunto la giocata di Jacopo allora abbia paura che non ce la faccia per un motivo perché sono eccole qua vieni da qui e palma e dai botte sono e pure i botte mi devo rompere le scatole bravo e sei a dodici no mi taggione no 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 non mi taggione no 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 per favore non mi venite a rompere via via no 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 non lo so eh vabbè eh si sapeva già si sapeva già io mi vado oh aspetta un po' guarda ma mi sei insegnato ancora sei innamorato? Jacopo Jacopo ecco come diceva vabbè siamo fermati? ancora? ma proprio ti voglio un tanto bene ma proprio guarda eh sono appiccicati sì sì proprio ma forse ti vogliono solo salutare eh strano con i proiettili però ecco oh no 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 ma dai le macchine con la torretta ma io le odio un po' le macchine con la torretta ma lasciatemi perdere via mi dovete lasciare stare io ho perso delle partite proprio in ultimo per colpa di qualcuno con la macchina con la torretta via 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 quindi insomma inizio un po' a odiarle mi sono salvato ma è che sono odiose le macchine con la torretta mamma mia tre di vita tre di vita sì ti manca la shield ah c'è lì un shieldone ok ok no va bene non te lo fai lo shieldone ah beh c'è lì ah scusa non ho ecco ecco allora allora ragazzi vi volevo dire intanto bravissimo Jacopo nonostante hai fatto 12 kill allora ritorniamo in lobby allora io volevo calmo 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 con le parole che sta ancora andando avanti a registrazione allora io ho detto che avrei detto una cosa a fine della giocata che non volevo dire subito e la cosa è questa che io il regalo a Jacopo lo faccio lo stesso anche se non ha mi stai sentendo Jacopo? sì sì ah no perché quando c'è la schermata di caricamento a volte le persone non mi sento allora volevo dire che io il regalo lo faccio lo stesso perché è stato così gentile nel regalarmi davvero così tante cose nell'ultimo periodo che io proprio molto volentieri anche se non ho raggiunto le 16 kill ma c'erano 4 kill ma le macchine la macchina con la torretta sono micidiali quindi allora da 800 dal negozio cosa preferisci? da 800? sì il premio è da 800 allora fammi vedere un po' virali dei caraibi non posso perché costa 1.300 vediamo una bella skin ah è Kira Campionessa sì allora aspetta un attimo Alessio che stiamo finendo a registrare il video Alessio aspetta eh Kira Campionessa vabbè intanto faccio entrare un attimo Alessio allora Kira Campionessa sa giù ha nascosto Campionessa si l'ho trovato l'ho trovato allora regala e Jacopo acquista dono ecco fatto grazie prego ciao Alessio stiamo siamo ancora in registrazione Alessio ciao e allora ciao e niente comunque complimenti Jacopo complimenti Jacopo e grazie a tutti quelli che hanno visto il video ciao ragazzi grazie a tutti quelli che hanno visto il video ciao ciao a tutti ciao ciao